Studiare in un ICT non è solo frequentare lezioni o dare esami, ma è vivere in pieno la città con le sue mille sfaccettature. Il vero motivo principale, però, per iscriversi in un ICT è la qualità della proposta formativa che vi viene erogata da un corpo docente che è costantemente impegnato in attività di ricerca e in aggiornamento professionale, che si adopera giorno dopo giorno a migliorare il vostro percorso formativo e di crescita con nuove regole e azioni concrete. Il dipartimento a cui mi onoro di fare parte è diretto alla professoressa Antonella Godi. L'obiettivo del nostro dipartimento è di favorire la crescita culturale, sociosanitaria ed economica del nostro territorio attraverso un miglioramento continuo dell'offerta formativa dello sviluppo e della ricerca. È caratterizzato da una cospicua componente interdisciplinare, prevalentemente nell'ambito clinico, biomedico e di sanità pubblica. Costa di 60 docenti e in ogni settore c'è l'eccellenza. L'offerta formativa che offre il nostro dipartimento è molto ampia. Infatti afferiscono quattro corsi laurea triennale, infermieristica, logopedia, tecniche audioprotesiche e tecniche di laboratorio biomedico e un corso di laurea magistrale, scienze riabilitative delle professioni sanitarie, con un altissimo indice di gradimento da parte degli studenti. Inoltre organizziamo un master di primo livello, strumentisti di sala operatoria, due di secondo livello, il risk management e medicina legale, previdenziale e assicurativa e in più collaboriamo alla realizzazione di un master di secondo livello coordinato all'Università di Le Mouche e in particolare del modulo neuroepidemiologi. Afferiscono diverse scuole in specializzazione di area chirurgica, di area medica e dell'area di servizi clinici e di area non medica. Inoltre il dipartimento mette a disposizione per gli studenti diverse figure di manager e tutor didattici per accompagnarli lungo il loro percorso formativo. Organizza inoltre varie iniziative culturali, quali seminari, convegni, corsi di altissimo profilo scientifico. Le lezioni si svolgono anche in aule multimediali, presso lo stesso dipartimento o in strutture adiacenti, con un approccio sempre più smart e informatizzato. E inoltre sono a disposizione di studenti numerosi laboratori. Nei prossimi anni il mondo sanitario un ragazzi richiederà sempre più professionisti e visti i punti di forza del nostro dipartimento, il post laurea dei nostri studenti sarà più facile in quanto già pronto alle esigenze del mercato del lavoro. Un grosso in bocca al lupo per il vostro futuro e spero tanto di vedervi in aula. A presto!